fondina swiss army multi-angle realizzata in cordura nera leggera semplice funzionale grosso passante da cinturone al suo interno porta caricatore frontale ritenzione di sicurezza a moschettone o a sgancio rapido tramite automatico questa fondina è considerata large auto ossia significa che possiamo mettere pistole di diversi calibri e modelli beretta 92 sig sour block colt 1911 la pistola rimane ben salda in ogni caso qualunque modello ed è possibile regolare tramite questa fibbietta fino a che non arriva alla giusta distanza molto maneggevole leggera e la possibilità di utilizzare il porta caricatore anteriore